Buonasera Buonasera Lei è? Guido Crepax Crepax? Lei disegna Disegno delle storie E lei? Lei fa parte di queste storie? Eh, non lo so Io invento dei personaggi e qualcuno può anche assomigliare a me o alle persone che mi sono vicine Per esempio e a molti dicono che nei miei disegni ci sono un po' tutte le cose della mia vita La mia infanzia La mia famiglia Valentina E forse Valentina Ci sono delle ore in cui preferisce disegnare? Il pomeriggio fino alla sera tardi E ieri pomeriggio? Ha disegnato ieri pomeriggio? Può dirmi dov'era? Ero con una donna Anzi Io d'una Eravamo lontano In un mondo strano Vedevo immagini di sogno Di incubo Uomini armati Minacciosi Ma non fotevano niente contro di me Ha testimoni? E' tutto qui dentro Ma nessuno l'ha visto, vero? Nessuno può testimoniare Se vuole Le disegno un testimone Un super test Uno di quelli che vedono tutto Non importa Non importa, ho già capito Confessi Lei ha un Omega al polso E' vero? Perché l'ha scelto? Perché mi ha convinto la sua immagine d'avanguardia E' un elettronico Sì, un Omega constellation elettronico Tecnicamente perfetto Pratico Senza problemi Anche Crepax ha un Omega al polso Ci sarà un motivo Chi possiede un Omega Sa perché E' un Omega al polso 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 E' un Omega al polso